bella a tutti raga bentornati in live filoasso bentornati su squid the game il gioco del cazzo dell'animo il gioco del piranha no lo squid cos'era più il calamaro il calamaro del cazzo il gioco del calamaro perché i calamari sono sadici ecco la tandaio si vabbè lei giapponese allora in paio 50 miliardi di wen e le nostre vite 50 miliardi di wen tanto a chi interessa ragazzi un miliardo di wen è tipo mezzo milione di euro quindi questi qua si sono giocati la vita per un po' però neanche per così tanto andiamo tap to play di nuovo mosca cieca no che mosca cieca un due tre stella ma come non sei in grado ma ero fermo ero ero fermo non toccare i tasti che si riblocca la live di ara no thanks no ma se aspetta mi si troppo parte la mia cazzo l'autaro no ma faccio la schiaffa ho preparato i pizzocri con la sciolta vabbè giauro ce la siamo giocata ma com'è qua la storia zio get to dai che stai facendo ma è questo schifoso che mi fa andare sul suo social di merda pezzo di merda vuoi andare lei? pagiauro ora vada vabbiamo green line red line hello andiamo come sto concentrando green line red line te l'ha laserato a fianco fre ma cosa ho fatto? è caso te l'ho detto che lo fa a caso ma dai ma perché quel coglione si è mosso vabbè io guarda non ho parole tutto fallito con le trecce mamma mia eh no anche a me prima mi ha sparato che ero fermo raga sta troia bambino di merda no raga no 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 bambina finita diciamo perché finita eh vabbè chi ha messo le pubblicità ragazzi spero che si cagli addosso tutta la vita perché non grazie anche se stai affermazione proprio adesso non vedo stai lontano dagli altri stai lontano dagli altri non mi sto muovendo troia guarda guarda come sta la danza quattro cinque sei stai lontano ooooh non avevo ancora i capelli raga i giochi del cazzo raga scaricatevi adesso oh 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 mi ha sciolto il minotauro ora lui sbagli no no un coglione ho sciolto anche il tesoro stava dietro il minotauro è vivo wow yes è grande se si viene non viene frittato dal minotauro comunque lo devo scrivere lo porterò in live sto gioco raga vedrete evoli il ritorno del cazzo perché c'è sempre quella parola in book beh non lo so perché posso? no scusa una vita a testa finché non si muore no io non ho fatto un cazzo stai a propone lasciamo la Gauror l'impedita devi fare le tue noci fa fa cazzi eh mamma mia Gauror incredibile oddio oh incredibile amici stia raga storie qua proprio l'impedita era tua sorella comunque raga per questo speed game ti diamo 100.000 follower quanti like 200.000 200.000 siamo pure ai bassi ci stiamo giocando la volta e 54 di one del porco il gioco di roba che scotta non mi devi parlare sopra scusi chiedo scusa ecco ma perché non mi fa me lo fa cliccare apposta raga non c'è la x vedete la x devo schiacciare in più ah ah me l'ha chiuso ah no ah qua sono i cazzi la fune raga la terza prova tiro alla fune cosa di delirio raga devo seguire il cazzo verde perché sta vincendo tutti in terra non ho capito come hai fatto caniДi qua non ho capito come hai fatto drought mi ha fatto lucca che puoi e no iitro erano si se non o cont mountain s infine po mamma Hugh fa vo Sì Ah, touch to play! No, e cosa devo fare? È touch to play! Ah, la cosa di merda! Brava! Prendi! EG Auror, si è giocata la sua vita! E trolla, e trolla al culo di Aurora! Il corallo è più musica di Aurora! Inche, raga, veramente mi devono pagare! Sì, grazie! Che ha leggermente scioccato le palle! Le ha rotte, non le ha rotte! No! Le ha rotte! Le ha rotte! Le ha rotte! Eh, poverini! Ah, siamo già passati proprio al gioco dopo, non si sa come! Ma meglio! Le biglie del cazzo! E perché non ho già vinto? Perché... oddio! Che raga, cioè, è spaziato nel mio spazio temporale! Vabbè, perché le tiri a cazzo adesso? Ho vinto, voglio sperare! C'ho vinto! Confirm! Ci giochi di merda! Oh! Quante stelle diamo, raga? Uno! Dai, non è vero! Dai, ne mettiamo cinque! Cosa cinque?! Cinque, mi sento generoso! Non ora, quindi non valgono! No! Successe del... E' niente! La sicurità! Devo dargli una stella! Eeeh! Buba! 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 Buba, gamberi, signore! Buba! 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 Un gelato di gamberi! Un gelato di gamberi non lo dice! Non dico niente! Fai ferma! Uh! La sfida dei cazzi di cristallo! Uh! E che devo fa'? Devi... Ci sono tra le due lastre una che si rompe e ti squaglia e l'altra che è giusta! No! Quindi tap to play! Ti devi ricordare... Tap to play, vedi? Tap to play! Eh! Destra, destra, sinistra, sinistra, dai! Destra, sinistra! Destra, destra! Sinistra, sinistra! Tre! Mamma mia! Laserati! Sceglie le uova! Me la ricordo, sta scena dei film ci stava, dai, era carina! Ma non è vero! Ma esistono le skill e i videogiochi! Ma devi stare qua! Qua? Qua non ci sono mai arrivato, raga! Cosa devo fare? Ah! Ah! Si accoltella la gente! Vieni qua, Fred! Vieni qua, Fred! Vieni qua, Fred! Vieni qua! Vieni qua! Mi faccio lamare, allora, e te lo do! Signore, wow! Però non mi lamano questi! Questa è la scena della rissa, sarebbe! E guarda che è una scimmia sto qua! Kill them all, se io non riesco a ucciderlo dovrei aver fallito! No, è successo! Grazie! Mi dispiace, amore mio, mi dispiace! Vabbè, io non gioco più! Vabbè, vabbè, io non riuscire a capire! Ma il cazzo è quello che ci faccio! E' quella l'unitima della... Dello studio di più! Vabbè, me lo downloadiamo! Per disinstallarlo Però Victory season 1 Survivor 2 È già finito Welcome to season 2 C'è la season 2 Ma in che senso Facciamo ancora season 2 Eh Ah raga Chi diamo 100.000 like 1 milione di follower 10.000 euro in donazioni Instant se volete vedere la season 2 E poi che altro Boh Una macchina Vi voglio bene tra i commenti anche Ne basta uno Che farebbe sentire vivi Ah bene raga Cazzata a parte questa è la speed game E niente Un gioco abbastanza del cazzo Come la serie del resto Del cazzo La sconsiglio a chiunque Se la voglia vedere No non è vero Secondo me chill No io sì No non è vero Secondo me chill Se non avete un cazzo da guardare Guardatevela Però non vi aspettate la serie Ma avrete sicuramente Avrete sicuramente Tutto fatto Se trovate di meglio La serie di speed game A me non ha fatto impazzire Tipo vaffanculo Va bene ragazzi Direi che per questo video live È tutto Ci vediamo alla prossima Fate i bravi Un saluto Buon Natale Sì va bene Tra due mesi Un saluto da Philoass E da Gia Che sbabbiano Sangana Rattalai Ciao